Abbiamo soltanto in mano un giusto. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è mai l'acqua! Non c'è mai l'acqua! Non c'è mai l'acqua! Non c'è mai l'acqua! Ma! Da brè nero uno! Vai vai vai! Fina l'acqua! Hoi! Hoi! Hoi chumper! Hoi! 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 Un'altra cosa che dobbiamo dire è di fatto quello che ci aspettavamo tutti e questo possiamo assicurartelo. La polizia sta lanciando in questo momento lacrimogeni, la polizia ha lanciato una presenza e loro rispondono con... ...vedere le immagini di quanto sta accadendo e tutto questo si sta davvero vivendo in tutti questi minuti. ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.